Allora, oggi iniziamo un argomento che è un po' un punto di svolta nel programma del corso nel senso che da adesso in avanti le cose cominciano a diventare un pochino più complicate, un pochino più articolate come sempre cercheremo di andare avanti per gradi, però i vari ingredienti che stiamo costruendo cominciano a combinarsi tra di loro in un modo più ricco e quindi è importante che abbiamo basi solidi su quello che abbiamo fatto finora per poter integrare anche questi nuovi argomenti che arriveranno nelle prossime settimane. Questa unità 6 è abbastanza ampia, ci staremo sopra circa tre settimane per vedere i vari aspetti e soprattutto fare parecchi esercizi. Poi gli argomenti delle unità successive sono relativamente più semplici, tutto sommato se uno ha capito bene il funzionamento delle liste perché poi in qualche modo sono cose simili. Allora, parliamo di questo nuovo tipo di dato che si chiama lista. Cos'è una lista? È un contenitore di dati. Io ho già usato la parola contenitore e l'abbiamo usata a proposito delle stringhe, dicendo che una stringhe è un contenitore di caratteri che sono stringhe lungo 1, di lunghezza 1. Ecco, la lista generalizza questo concetto ed è un contenitore generico, versatile e flessibile di dati di tipi diversi che sono caratterizzati dalla possibilità di essere inseriti, ricercati ed estratti attraverso un indice numerico. Adesso vedremo poi varie analogie e differenze rispetto alle stringhe. Quindi, finora avevamo la grossa limitazione che tutti i programmi che facevamo dovevano lavorare con un numero finito di dati. Quando ad esempio facciamo un programmino che legge dieci numeri e calcola il massimo, fa la somma, in realtà di questi numeri li potevamo gestire uno solo per volta e poi l'interazione successiva con la stessa variabile veniva riusata per fare qualcos'altro, cioè per memorizzare il numero successivo. Non avevamo mai la possibilità di memorizzare tanti numeri contemporaneamente, se no mettendoli in tante variabili diverse poi diventava complicato. Allora qui invece stiamo facendo questo salto. Avere una variabile che contiene, il cui valore contiene tanti valori. Non è più una variabile un valore, ma una variabile tanti valori. In altri linguaggi di programmazione quella che in Python si chiama lista si chiama a volte in modo diverso, array, vettore, sequenza, eccetera, eccetera. Poi ogni linguaggio di programmazione lo tratta questa struttura dati fondamentale con, diciamo così, varianti diverse, no? Però se avete già conoscenza di cosa sono questi struttura dati avete già un'idea di che cosa si tratta. Allora una lista è una variabile che contiene più valori e si indica in modo molto semplice, molto diretto in Python usando le parentesi quadre. Quindi se io metto tra parentesi quadre una serie di valori ho creato una lista. Se io apro una finestra adesso ingrandiamo anche e scrivo 2, 5, 8 questa sintassi definisce un valore di tipo lista che contiene tre elementi io lo posso mettere in una variabile A uguale 2, 5, 8 e ho definito una variabile A scusate, type di A che non è di tipo intero non è un numero ma è una lista di numeri quindi creare un elenco una lista di valori è semplice perché basta appunto aprire la parentesi quadre e inserire i valori separati da virgola poi ovviamente c'è il caso degenere diciamo così in cui non hai nessun valore da mettere in una lista allora crei quella che chiamiamo una lista vuota cioè aperta quadra chiusa quadra che è un po' come una stringa vuota aperte virgolette e chiusa virgolette e una volta che ho messo i valori dentro una lista cosa posso fare? beh li posso andare a estrarre a consultare A di 0 l'ho chiamato A ricordiamoci qua una lista di tre elementi A di 0 sarà 2 cos'è 2? 2 è il valore del primo elemento che ci ho messo dentro la variabile A è da tre elementi 2, 5, 8 il primo elemento lo posso identificare tramite l'indice 0 il secondo elemento lo posso identificare tramite l'indice 1 il terzo elemento lo potrò ad esempio l'8 lo potrò identificare tramite l'indice 2 un po' come trovavamo il carattere all'interno di una stringa infatti sono due sia stringa che lista sono due contenitori indicizzati in cui ho un indice un valore di indice che va da 0 al numero di elementi meno 1 che mi permette di trovare i singoli elementi nel caso della lista il singolo elemento è sempre solo un singolo carattere nel caso di una lista nel caso di una stringa invece è ciò che ci ho messo dentro in questo caso il valore quindi io posso data una volta che ho costruito una lista posso estrarre il valore memorizzato in una certa posizione all'interno della lista oppure e qui si rompe l'analogia con le stringhe non vale più posso modificare direttamente un valore contenuto nella lista cioè se io avevo la mia lista A che era 2, 5, 8 posso decidere che il secondo elemento non lo voglio più uguale a 5 non lo voglio uguale a 10 e quindi potrò scrivere A di 1 A di 1 vale 5 adesso ma se io metto A di 1 uguale a 10 adesso la variabile A conterrà 2, 10, 8 cioè una lista ha un valore iniziale contiene alcuni elementi iniziali ma questi elementi poi possono essere cambiati vedremo poi aggiunti cancellati eccetera trasformati durante l'esecuzione del programma quindi una lista è una struttura è un contenitore mutabile cioè ci metto della roba dentro quando la creo questa lista è una variabile che va inizializzata come tutte le variabili ma poi una volta che l'ho creata la posso modificare e questa è la prima volta che incontriamo un tipo di dato mutabile gli interi erano immutabili i reali erano immutabili non potevo dire all'intero 7 adesso tu sei 8 no e 7 nasce 7 e muore 7 una stringa non c'era modo per modificarla abbiamo visto per mettere la stringa in maiuscolo devo costruire un'altra e poi eventualmente memorizzare nella stessa variabile ma è una stringa diversa invece con le liste non c'è più questa restrizione ho messo dentro dei valori e li posso in qualunque momento cambiare e avrò una serie di operazioni la più semplice è quella di modificare un valore che c'è già che si fa semplicemente con una assegnazione assegno un nuovo valore ad uno specifico elemento contenuto nella lista attenzione non confondiamo tre cose che sintaticamente sono molto simili quella che abbiamo scritto prima ad1 uguale 10 con a uguale 10 a uguale 10 cosa farebbe? e beh assegnerebbe alla variabile A sempre la stessa un nuovo valore che a questo punto non è più di tipo lista ma di tipo intero riassegniamo il valore di una variabile la nostra lista è a questo punto persa perché alla variabile A abbiamo riassegnato un valore nuovo di un tipo diverso quindi è molto diverso assegnare un valore alla variabile lista che era che conteneva una lista rispetto ad assegnare un valore a un singolo elemento contenuto nella lista quindi dobbiamo sempre tenere distinti i due livelli sto lavorando con la lista o sto lavorando con un singolo elemento? ma questo vale anche al contrario nel senso che adesso andiamo a rimettere di nuovo dei valori dentro A se io stampo il valore di A sto stampando l'intera lista e Python me la stamperà con una sintassi simile alla sintassi che ho usato per costruirla con le parentesi quadri e le virgule se non ci piace questo sintassi impareremo a farla stampare in modo diverso per carità e il diverso è se io invece stampo A di 0 o A di 1 cosa faccio? vado a prendere la lista all'interna lista scelgo un elemento e uso il valore di quell'elemento che in questo caso è un numero intero e stamperò quel numero intero lì quindi quando ho a che fare con una lista e uso le parentesi quadri sto sempre parlando del singolo elemento della lista sia che lo stia utilizzando ad esempio lo stampo sia che lo stia modificando quindi accedere ad un elemento usare il suo valore stamparlo farci dei calcoli e modificare un singolo elemento sono entrambe operazioni che si possono fare sul singolo elemento devo avere il nome della lista con tra parentesi l'indice della posizione dell'elemento che mi interessa poi una volta che dico che è un indice so già tutto sugli indici nel senso che parto da 0 arrivano al numero massimo di elementi meno 1 potrò creare dei range delle slice così come facevo sulle stringhe queste e queste qua continuano a essere vere continuano a funzionare esattamente nello stesso modo e noi visualizziamo così anche mentalmente una lista come appunto una serie di valori in cui ho una variabile che è una variabile il cui valore attuale è un oggetto di tipo lista questo oggetto di tipo lista dentro contiene come fossero tante piccole variabili ciascuna delle quali ha un suo valore indipendente dalle altre che può essere inizializzato può essere modificato come abbiamo visto se io vado a prendere il python tutor e scrivo dove l'avevo aperto prima e scrivo appunto a uguale 2 3 5 mi fa vedere una rappresentazione più esplicita di ciò che sta succedendo cioè io ho preso un'istruzione banale a uguale 2 3 5 allora cosa ho fatto ho preso un valore intero 2 ho preso un valore intero 3 un valore intero 5 li vediamo disegnati lì perché sono valori indipendenti separati l'uno dall'altro ok poi ho aperta graffa aperta quadra questa aperta quadra crea un oggetto di tipo lista crea un contenitore allora il contenitore di tipo lista è questo qua giallo qua sotto vedete list la chiama list giustamente una lista che in realtà non contiene i valori no in python c'è sempre la distinzione tra dove sta il valore e dove sta la variabile che fa riferimento a quel valore la lista di fatto contiene una serie di variabili che mi permettono di arrivare ai singoli valori e queste variabili chiaramente sono indicizzate con l'indice 0 1 2 l'oggetto lista a sua volta è un valore a cui si può accedere attraverso il nome di una variabile quindi c'è sempre il doppio passaggio la variabile si chiama questa variabile è un valore attuale questo valore è una lista la lista cosa contiene contiene tante variabili che si chiamano lista di 0 lista di 1 lista di 2 e queste variabili puntano un valore hanno un valore quando io vado a modificare il codice magari faccio a di 1 uguale a 10 come facevamo prima ciò che succede qui ho creato una cosa eseguo l'istruzione a di 1 uguale a 10 vedete che il 2 è rimasto dove era è rimasto intatto il 5 è rimasto intatto l'elemento a di 1 la variabile a non è cambiata a continua a puntare a una lista questa lista continua a contenere tre elementi ma adesso il secondo elemento punta a un valore diverso rispetto a quello a cui puntava prima quindi non ho modificato la lista ho modificato il contenuto della lista uno dei valori contenuti nella lista quindi sia dal punto di vista sintattico che dal punto di vista della gestione degli indici molto di ciò che abbiamo imparato sulle stringhe ce lo portiamo a casa gratis cioè continua a funzionare nel stesso modo ci sono due differenze principali una l'abbiamo già citata che le liste sono mutabili e quindi oltre alle operazioni che già conoscevamo con le stringhe in qualche modo indizio faccio un range eccetera che erano tutte operazioni che però leggevano il valore della stringa perché modificare non era possibile ci saranno molte altre operazioni che invece si permettono di modificare il contenuto della stringa la più semplice che abbiamo visto adesso è l'assegnazione cambia un valore che c'è già però ne vedremo altre l'altra differenza è che una lista può contenere un valore di qualsiasi una valori dei valori di qualsiasi tipo quindi io posso costruire tranquillamente una lista chiamiamola B che contenga dei nomi aperta quadra tizio virgola caio basta per ora e quindi B sarà una lista che in questo caso contiene due posizioni che corrispondono ai valori di tipo stringa B è una lista il tipo di B è lista B di 0 è una stringa il tipo di B di 0 è stringa ok sempre vale sempre stessa regola se ci sono le parenti di quadra sto parlando del singolo elemento contenuto se non ci sono le parenti di quadra sto parlando della lista nel suo complesso poi se uno si chiede qual è la lettera iniziale del primo elemento scriverà B di 0 di 0 B è una lista B di 0 è il primo elemento di una lista che è una stringa e quindi su questa stringa posso fare ciò che voglio posso prendere il primo elemento che sarà la T posso calcolare la versione in maiuscolo che è questa eccetera cioè quando ho scritto B di 0 è come se se avessi chiamato questi due Tizio e Caio li avessi chiamati con due variabili nome 1 nome 2 allora ciò che posso fare assegnando nome 1 uguale Tizio a questo nome 1 che è una variabile di tipo stringa posso fare quello che voglio B di 0 è la stessa cosa il trucco per avere una variabile sola che contenga tanti valori è riuscire a non essere obbligati a dare un nome a ogni singolo valore nome 1 nome 2 nome 3 nome 4 il nome è unico in questo caso B e poi i singoli valori li distinguono tramite un unice numerico ma un po' anche come faccio in matematica quando scrivo x con i quelli generico quindi non è tanto generico è un valore specifico intero e quindi tutte le volte che pensiamo a un valore lo trattiamo come se fosse una normale variabile ok possiamo creare delle liste di numeri interi possiamo creare delle liste di numeri reali possiamo creare delle liste di stringhe possiamo creare delle liste di elementi i cui valori siano di tipo diverso sai alla lista non importa la lista è il contenitore il contenitore cosa contiene? contiene tante variabili variabili anonime variabili numeriche degli indici che poi ciascuna delle quali punterà un oggetto che ha un certo valore se vogliamo prendiamo questo e mettiamolo in Python Tutor e vediamo che non si dovrebbe scomporre no? preoccupare funziona nello stesso modo ho creato una lista di quattro elementi lui mi crea un contenitore un cassettino giallo con quattro posti che si chiamano 0,1,2,3 poi nel primo cassetto ci mette una stringa nel secondo cassetto ci mette un intero nel terzo cassetto ci mette un intero nel quarto cassetto ci mette un'altra stringa non c'è problema è chiaro che poi sono io che quando ci lavoro su questa lista di elementi dovrò fare attenzione per alcuni sono string altri sono interi quindi se ti devo fare delle operazioni che ne sono di somma le posso fare solo sui numeri se devo fare le operazioni di concatenazione le posso fare solo sulle stringhe se devo fare le operazioni di confronto le posso fare solo tra numero e numero o tra stringhe e stringa non tra valori misti ma questo è un problema mio di uso dei valori che stanno dentro la lista dal punto di vista del linguaggio non cambia nulla e infatti ma non oggi poi ci chiederemo ma uno degli elementi di una lista potrebbe essere a sua volta una lista perché no certo che sì è un qualunque valore e da lì le cose cominciano a diventare più complicate dimmi per sapere quanti elementi ci sono all'interno della lista uso la stessa funzione che uso per sapere quanti caratteri ci sono in una stringa cioè la funzione len se io dato questa lista faccio len di b mi dice che è 2 len di a mi dice che è 3 lui vuole stampare tutti gli elementi della lista stampiamoli magari mettiamoli in un programmino abbiamo aperto il python tutor oggi funziona sfruttiamolo quindi io voglio stampare tutti questi elementi della lista e quindi posso dire posso farlo in tanti modi for i in range len di lacchi in questo caso la stringa si chiama questa lista si chiama lacchi perché sono print lacchi di ad esempio questo è il costrutto base cosa sto facendo sto stampando lacchi di 0 lacchi di 1 lacchi di 2 lacchi di 3 quindi il corpo di questo ciclo è print lacchi di i poi questo i lo devo far iterare da 0 a 3 quindi da 0 devo creare un range con un limite superiore uguale a 4 e 4 è proprio la lunghezza di questa lista quindi in questo caso definisco questa lista e poi i parte da 0 e mi stamperà lacchi di 0 che è star la parolina star poi si incrementa i vale 1 e mi stamperà 13 e così via questo ciclo itera per 4 volte ogni volta stampa un valore quindi una volta che ho una lista che contiene dei valori per poter fare un'operazione sul singolo valore lo prendo lo estrago conoscendo l'indice se voglio fare un'operazione su tutti i valori dovrò vivere dentro un ciclo il cui indice va a spassolare tutti gli indici possibili della lista e questo è un modo crea un contenitore un range che contenga gli indici di quella lista che va da 0 alla lunghezza della lista meno 1 chiaramente oppure se le parole che abbiamo usato adesso finora sono corrette la lista è un contenitore quindi io posso iterare con un ciclo for sulla lista stessa quando abbiamo letto il for la prima slide della distruzione del for diceva sicuramente iterare su un contenitore là conoscevamo due tipi di contenitori che erano i string e i range adesso abbiamo consumato la lista allora io posso iterare direttamente sulla lista sui valori contenuti nella lista quindi nel secondo caso qui sto usando un ciclo for per iterare su un contenitore di tipo lista con una variabile di appoggio che ho chiamato s posso chiamarla come voglio solo per non chiamarla i mi ricorda un indice numerico questo non è più un indice numerico è un contenuto è un valore e quindi alla prima iterazione questa variabile s conterraggia direttamente la prima stringa cioè questi due cicli fanno esattamente la stessa cosa quindi il primo sappiamo cosa fa lo facciamo andare avanti quando arriviamo al secondo abbiamo un ciclo for che itera con la variabile s sul contenuto di una lista ok qui la differenza è i itera sugli indici che quella lista possiede qui invece sto iterando sui valori posseduti da quella lista quindi la prima iterazione è il valore di s che è una variabile guarda com'è carino come l'ha disegnato bene s viene assegnato direttamente alla variabile star al valore star che è lo stesso valore che ottenevo da qui qui ci abitueremo con la lista a vedere più frecce che puntano allo stesso valore perché in realtà il contenuto di quella lista viene rappresentato una volta sola il contenuto di quell'elemento star e se lo uso in più punti io starò puntando guarda quel valore là non è un'altra stringa star è la stessa è quella ok quindi ho in questo momento due modi di chiamare la stringa star la posso chiamare s perché in questo momento s punta lì la posso chiamare l'acchi di zero come la chiamavo prima ancora ho due strade diverse per poter accedere allo stesso valore questo è un concetto importante che metabolizzeremo nelle prossime ore ho due alias si dice in gergo due sinonimi due nomi diversi per chiamare lo stesso valore usiamo il termine alias per rappresentare questo concetto s in questo momento è un alias per l'acchi di zero quindi sono due nomi alternativi per chiamare lo stesso valore per far riferimento allo stesso valore lo stesso non uno identico poi lo vediamo vediamo meglio cosa significa ma poi alla fine dei conti questo star lo stampo stampo qua e poi passo al valore successivo vedete che questa s zampetta salta da un elemento all'altro adesso s sarà un alias di l'acchi di uno del secondo elemento e vabbè è lo stampo poi diventerà zampettato al 17 stamperò il 17 ma alla fine è zampettato al quadrifoglio che anch'esso porta fortuna come tutti gli altri elementi di questa lista che è di tipo stringa quindi questa variabile s sta zampettando tra vari valori che in questo caso sono di tipo misto però a lei non interessa interesserà alla print che se si vede sotto il naso un intero lo stampa in un certo modo se si vede sotto il naso una stringa la stampa in modo diverso ma alla variabile s l'importante è dire da dove lo prendo il valore lo prendo dalle variabili anonime che stanno dentro la lista sono anonime perché sono note solo per l'indice ok? quindi abbiamo anche qua i due modi di iterare su una lista che sono per indice o per valore se i itero sull'indice i posso sempre ricavare il valore andando a indicizzare la lista se itero sul valore una volta che ho il valore non posso dal valore tornare indietro all'indice ok? anche qua si potrà fare come facevamo già sulle se mi servisse sia il valore che l'indice beh o uso la prima versione in cui ho l'indice da lì ricavo il valore posso fare ciò che voglio oppure uso anche qua l'enumerate in cui dico indice valore in enumerate di lachi e allora a questo punto posso stampare sia i che s nello stesso modo quindi sono se andate a vedere la settimana scorsa quando vedevamo le iterazioni sulle stringhe o sui cicli for c'erano esattamente queste tre alternative iter sull'indice iter sul valore oppure nell'iterazione mi serve sia indice che valore allora mi faccio aiutare da questa funzione in enumerate esattamente come prima poi l'ultima riga di questa slide ci dice la cosa più saggia che è sempre meglio evitare di mescolare dei tipi perché poi se io ho una stringa mista come questa qua che operazione ci faccio cioè posso calcolare il massimo e il minimo no il massimo e il minimo sono concetti solamente numerici o se avessi tutte stringhe potrei calcolare il massimo e il minimo in senso alfabetico se avessi tutti i numeri in senso numerico ma se sono insieme non ha significato la domanda posso calcolare la somma la media no cioè di solito se una lista contiene valori misti sarà difficile fare delle operazioni complessive sulla lista stessa ok quindi il linguaggio lo permette ma nella maggior parte delle applicazioni pratiche non conviene non è utile non ci serve poi questo slide ci dice che ovviamente gli indici vanno da 0 alla lunghezza meno 1 oppure gli indici negativi vanno da meno 1 a meno la lunghezza ogni valore esterno a questo range ovviamente mi dà un errore quindi se io avevo la mia B che conteneva 2 elementi e io provo ad accedere all'elemento quarto elemento ovviamente otterrò un errore indice della lista out of range cambia leggermente il messaggio d'errore perché una lista non è una stringa ma ovviamente se cerco di accedere a un valore esterno a quelli permessi dagli indici otterrò un errore di indicizzazione quindi devo fare ovviamente attenzione a accedere solamente elementi che possiedo beh qui ci sono le due cose che abbiamo già visto come si fanno stampare il valore di una lista iterando sulla lista la funzione len che mi dà il numero di elementi uguale alle stringhe questo è un po' quello che abbiamo visto un conto è accedere al singolo elemento questo questa sintasi legge il valore di un singolo elemento questa sintasi invece assegna a una nuova variabile oppure riassegna una variabile esistente che cosa una nuova lista che contiene un solo valore il quale valore è un intero 4 ok quindi ricordiamoci l'uguale quando alla sinistra dell'uguale non ci sono le parenti di quadro sto creando una nuova lista quando invece c'è parenti di quadro è uguale allora sto andando a modificare il singolo elemento ma la sintasi direi che è abbastanza parla già abbastanza in modo diciamo non ambiguo vabbè qui era il ciclo che abbiamo appena visto l'abbiamo fatti grazie alla sua domanda ma ovviamente la prima cosa che devo fare è una volta che ho tanti elementi sapere come fare a prenderli uno per uno e fare qualcosa vabbè noi creiamo una variabile e ci mettiamo dentro una lista di elementi cosa succede se faccio un'operazione del tipo come c'è scritto qua a uguale b allora vediamo prima l'effetto superficiale l'effetto superficiale io ho una variabile a che è una lista e scrivo c uguale a non mi ha dato errore quindi evidentemente era qualcosa che potevo fare ho creato una nuova variabile c io la leggo così che è lo stesso valore di a infatti se voglio vedere il valore attuale di c è uguale al valore attuale di a ma a questo punto la domanda che mi faccio è la variabile c è un nuovo valore identico ad a o è lo stesso la stessa lista ho creato una coppia di una lista o un alias a una lista esistente ecco la risposta in python è la seconda quindi se io ho questa stringa facciamola facile adesso con i numeri no? a uguale 3 5 8 e poi b uguale ad a c continuiamo a dire c c uguale ad a vabbè la prima istruzione mi crea una lista e la segna alla variabile a la seconda istruzione fatemi dire è cieca non sa che cosa contenga la variabile a ma fa una cosa molto semplice dicendo ok a attualmente è un valore è un valore tipo lista ok è un valore ok quindi adesso a e c sono due sinonimi che fanno riferimento entrambe alla stessa lista non ho due liste uguali alla stessa lista questo vuol dire che se io poi torno qua modificassi c di 1 lo mettessi uguale a meno 3 quindi ho modificato c il secondo elemento vale a meno 3 ecco dire ho modificato c non è del tutto corretto perché in realtà ho modificato la lista a cui fa riferimento c che è la stessa lista a cui fa riferimento anche a e infatti modificando c si è modificata anche a questo è un modo brutto di dirlo in realtà non ho modificato né c né a io ho modificato la lista anzi un valore della lista poi casualmente questo valore questa lista si può chiamare c si può chiamare a quindi normalmente quando io copio il valore un valore da una variabile da un'altra in particolare quando questi valori sono delle liste vengono sempre creati degli alias se non vengono copiati i valori poi ovviamente impariamo come fare anche a copiare i valori ci mancherebbe questo meccanismo di copia avviene anche ma non lo vediamo ancora oggi nelle funzioni quindi ce ne dovremo occupare molto bene quando dovremo perché se io sto scrivendo tre istruzioni di codice non mi serve a niente dare due nomi allo stesso valore perché devo creare un alias ecco l'alias lo creo indirettamente quando uso le funzioni ma quello lo vedremo adesso però il premio che cominciamo a avere in mente costruirci un modello costruirci oggi mi blocco nelle parole costruirci un modello mentale con cui queste immagini ci aiutano ad avere quindi ogni volta che assegno un valore da una lista a un'altra non ho creato una copia della lista ma una copia del riferimento allo stesso valore di prima questo è quello che abbiamo appena fatto e modificando una qualuna modificando la lista attraverso uno degli alias modifica un valore che ovviamente rifletterò vedrò riflesso modificato anche attraverso un altro degli alias ma questo una volta che capiamo che sono due nomi diversi per la stessa cosa è banale poi quando poi scriviamo codice questo concetto qua a volte magari un po' ci sfuggi perché si chiama Pippo si chiama Pluto si chiama due modi diversi ma perché chi l'ha modificata questa qui chi non l'ha mai toccata non è toccato lei ma è toccato attraverso il suo alias ecco se invece volessi creare invece una copia e non semplicemente un alias lo posso fare con una funzione posso fare almeno in quattro modi diversi in modo uno dei modi semplici è usare la funzione list alla funzione list è analoga alla funzione conoscevamo int conoscevamo float conoscevamo str che veniva usata per costruire un nuovo oggetto di quel tipo eventualmente convertendo oggetti di tipo diverso facciamo int di una stringa per convertire la stringa intera ogni tipo di dato in Python ha la sua funzione associata che serve per creare quel tipo di dato lì e in particolare la funzione list se io non gli passo nessun argomento mi crea una lista vuota un contenitore che è sinonimo che scrive direttamente aperto e chiuso a quadra se invece passo al funzione lista una una lista già esistente mi crea una nuova lista e la inizializza anziché con una lista vuota la inizializza con i valori vecchi quindi se io scrivo avevamo a se scrivo list di A sembra uguale ha creato una lista e l'ha inizializzata con i valori che c'erano dentro A la posso modificare a questo punto però vediamo la differenza torniamo su Python Tutor perché abbiamo visto che guardare i valori non ci permette di capire tutto di come vengono memorizzati i dati proviamo a questo punto a avere un'altra variabile D che sia una coppia che sia una nuova lista che parte da A allora questo lo sappiamo crea la lista C crea un alias puro cosa fa D? D uguale list di A allora la funzione list ha ricevuto come argomento il riferimento ad A quindi è la prima lista quella di sopra quella che avevamo già prima ha creato una nuova lista e vedi che il rettangolo giallo è diverso quindi è un'altra lista i cui valori sono gli stessi della prima lista infatti vediamo che i valori sono condivisi sono gli stessi lassù quindi una lista nuova che contiene gli stessi valori C è un alias di A D non è un alias di A è proprio una lista diversa non è un altro nome per la stessa lista di prima è una lista diversa però A di 0 e D di 0 invece sono entrambi alias per il numero 3 sono due modi diversi di arrivare a quel 3 lassù adesso il fatto che siano alias il numero interno non ce ne frega niente perché? perché i numeri interi sono immutabili e quindi tanto non c'è modo come faccio ad accorgermi nella pratica se ho una copia di un dato o un alias di quel dato lì e semplicemente se lo provo a modificare la modifica si vede anche dall'altra parte oppure no ma se ho un dato immutabile perché parliamo oggi di queste cose non abbiamo parlato un mese fa perché finora avevamo solo dati immutabili quindi la differenza tra copia e alias era irrilevante non che non esistesse è sempre esistita ma al lato pratico non si poteva notare nessuna differenza qua invece si nota quindi abbiamo fatto una copia della lista e i valori assegnati a questa lista sono non copia dei valori della prima lista ma sono esattamente gli stessi valori della prima lista sono degli alias dei valori della prima lista ma questo non mi può bloccare da poter provare a modificare la lista D io modifico il primo elemento di D il secondo e ci metto dentro il 99 ciò che capita D di 1 uguale a 99 proviamo a seguire la logica di Python dice ok D di 1 cos'è? è un elemento della lista è una variabile tu stai assegnando una variabile anonima semplicemente indicizzata stiamo assegnando a quella variabile un valore nuovo 99 e quindi questa freccia qua che prima puntava al 5 adesso la farò puntare a un altro posto dove c'è il 99 quindi io non ho modificato il 5 non avrebbe senso modificare il 5 ho modificato il riferimento che prima puntava al 5 nella variabile D e adesso punta un 99 e quindi in pratica io quando ho creato questa lista D ho creato una lista i cui valori fossero tutti alias dei precedenti ma poi man mano che li modifico questi alias si rompono e questi valori prendono una vita propria vanno avanti indipendentemente D è una lista nuova i suoi valori sono inizialmente gli alias dei valori della lista A e poi però possono essere modificati come qualunque variabile una regola mnemonica per ricordarci bene quando capita una cosa quando capita l'altra è che se ho una parentesi quadra o la funzione list sto creando una lista nuova se e solo se quindi tutte le volte che ho aperta quadra tutti i valori quella è una lista nuova poi magari i valori di quella lista sono riusati sono alias di valori di altre liste non importa sto parlando dei rettangoli gialli delle liste proprie dei contenitori se ho list funziona list quella crea sempre una lista nuova vediamo poi altri modi o anche usando le parentesi quadre di creare liste nuove dove non ho la parentesi quadra o non ho la parola list sto facendo un alias o l'alias che poi devo mantenere perché se poi cambiassi il valore di c dentro dentro il codice allora quell'alias si perde perché se la variabile di c poi la punta è da un'altra parte che si è presa a vale ovviamente fino a quando non viene modificato quel valore allora come dicevo queste diciamo così finezze queste distinzioni ci servono perché appunto se io devo leggere dei dati e poi fare delle elaborazioni su questi dati che magari li vanno a modificare mi può tornare comodo avere una copia lavorare su una copia della lista in modo che i dati iniziali non li perdo li ho ancora sempre me ne faccio una copia li paciocco li modifico li cancello faccio quello che devo fare ma poi non ho modificato i dati diciamo così di ingresso ma solamente una loro copia e quindi posso fare magari operazioni diverse sugli stessi dati ogni volta mi faccio una copia nello stesso modo ok quindi che operazioni abbiamo imparato a fare sulle liste crearle misurarle length quant'è lunga iterarci sopra con ciclo for di nuovo e fare alias o copie dopo che però una volta che ho creato una lista di tre elementi io so modificare il singolo elemento il primo il secondo il terzo ma non so magari come aggiungerlo aggiungere un quarto allora esiste una serie di metodi ad esempio uno è append che aggiunge un elemento a una lista esistente adesso qua mi allontano un attimo dalle slide cioè se io volessi torniamo a questa lista io volessi adesso aggiungere un altro elemento che ne so che vale 11 alla stessa lista allora un modo può essere proprio di quello di fare append 11 con due p sole allora questo è un metodo che si applica alla lista lista nome della lista punto nome del metodo e che ha come argomento il valore da aggiungere lo eseguo e cosa succederà immaginiamocelo visivamente appende aggiunge un elemento a una lista esistente quindi comparirà un altro quadratino giallo a fianco con l'indice 3 che punterà a un numero 11 ho modificato la lista non solo modificando i suoi elementi ma modificando proprio il contenitore adesso è un contenitore da 4 non più un contenitore da 3 quindi è facile ad esempio fare un programmino che legga dei numeri da tastiera e li memorisi da una lista l'epica cosa che faccio quando devo leggere dei numeri è impostarvi un piccolo ciclo leggi da tastiera facciamo dei nomi non dei numeri dai 10 nomi no 10 non 30 4 nomi 5 nomi quindi dirò quanti sono mi metto una costante così è facile da cambiare fare itero per 5 volte la lettura di un nome iterare 5 volte lo so fare ogni volta leggo un nome e questo e questo lo so non mi ha fatto ancora nulla oggi di nuovo ho un ciclo che ripete 5 volte la lettura di un nome dopodiché questo nome noi lo stampavamo facevamo cose ma poi ad ogni iterazione la variabile nome è una variabile singola che viene sovrascritta ogni volta io voglio ricordarmi tutti questi nomi quindi alla fine del ciclo 4 li voglio avere tutti lì in fila per farlo li devo mettere dentro una lista una lista che inizialmente sarà una lista vuota e dentro il ciclo ogni volta che leggo una variabile la aggiungo alla lista stessa io ho usato il nome singolare per indicare il singolo nome e il nome plurale nomi per indicare la lista che conterrà più nomi quindi è un po' come sai quanto calcolavamo la somma dei numeri io leggo un numero per volta e poi ho una variabile somma che via via accumula il totale che sto calcolando qui anziché accumulare qualche cosa accumuliamo i valori stessi dentro un contenitore che ad ogni giro diventa un pochino più grande se io eseguo questo eseguiamolo magari in modalità debug così vediamo passo passo cosa succede allora numero 5 è una costante ho deciso di leggere cinque nomi perché dieci sono troppi ci annoierebbe troppo io vado avanti nome uguale lista vuota quindi questa la sintassi è aperta chiusa quadro oppure nome uguale list è aperta chiusa tonda è lo stesso in entrambi i casi crea una variabile di tipo lista con zero elementi infatti se io apro questo mi dice la lunghezza è zero grazie poi ho un ciclo normalissimo for in cui i parte da zero va avanti chiedo all'utente dimmi il primo nome 1 invio ok sono a questo punto quindi ho letto nome nome è la stringa 1 una variabile che in questo momento ha il valore di tipo stringa 1 io sto facendo nomi questa lista vuota append un elemento un valore che in questo caso è stringa e quindi passerò ad avere nomi a diventare una lista di un elemento prima era di zero adesso la lunghezza è 1 e l'elemento di indice zero è la stringhetta 1 poi vado avanti mi chiederà il secondo nome lo rispondo 2 invio e quindi farò l'append in cui aggiunge alla variabile nomi che contiene un elemento aggiunge il secondo elemento quindi lo fa diventare una lista di due elementi e così via poi leggerò il terzo nome che possiamo immaginare che è chiamato 3 e questa lista diventerà una lista di tre elementi adesso lunghezza 3 e i valori sono 0,1,2 associate agli indici 0,1,2 sono questi tre finiamo il programma velocemente ecco l'ultima riga questa è quella che corrisponde a questa print di lighe a 11 che mi stampa il valore della lista e qui mi vede vedete che la stampa di una lista me la stampa con la sintassi della parente di quadre e dentro essendo stringhe ci mette le virgolette per aiutarmi a capire che sono stringhe ok quindi abbiamo costruito una stringa un pezzettino per volta con un operatore col metodo append che è il primo dei metodi fondamentali per riuscire a lavorare con le liste sto aggiungendo gli elementi alla stessa lista non sto creando un'altra lista che contiene un elemento in più di quello di prima ok sto modificando la lista stessa vediamo poi come si può fare l'altra cosa e vabbè append però ha un difetto se vogliamo che come dice il nome appende in fondo quindi lo mette il nuovo valore lo mette sempre come ultimo della lista ma se io volessi aggiungere un elemento invece in un'altra posizione che so all'inizio della lista posso usare il metodo insert il metodo insert funziona come append nel senso che aggiunge un elemento alla lista quindi fa crescere la lista di una casella ma il nuovo valore anziché metterlo in fondo lo mette nella posizione specificata dall'indice che gli do io quindi ha due parametri uno è l'indice della posizione in cui voglio inserire il nome e due è chiaramente il nome l'elemento e due è l'elemento stesso cosa succede se io voglio inserire un elemento in posizione 3 e c'era già qualcuno in posizione 3 ebbè tutti gli elementi della posizione 3 in avanti vengono spostati più in là per far posto quindi se io inserisco un elemento in posizione 3 chi c'era prima in posizione 3 adesso passerà in posizione 4 chi c'era prima in posizione 4 passerà in posizione 5 e così via ovviamente cambiano indici gli elementi quindi ad esempio se io avessi la stessa stesso programma di prima in cui modificassi questa istruzione appende con una insert ad esempio 0 l'elemento nuovo viene inserito ogni volta all'inizio e non alla fine quindi se io eseggo il programma e inserisco gli stessi valori 1 e certo cosa ho fatto nomi punto insert scusate ho beccato un errore leggiamo insieme l'errore perché poi è importante anche riuscire a deconfittificare gli errori lui mi dice io ero convinto di aver scritto giusto quindi non ci ho pensato un errore mi dice l'oggetto str non ha nessun attributo insert cioè mi sta dicendo guarda tu hai cercato di chiamare il metodo insert su un oggetto che è una stringa e la stringa non ha il metodo insert giustamente è immutabile e dico ma come perché non ho chiamato insert su una stringa l'ho chiamato insert su una lista invece avevo sbagliato avevo scritto il nome che è una stringa e non il nome che è una lista ok quindi a volte i messaggi errori sono non dico che sono strani ma richiedono un attimo di rimettere in discussione quello che pensiamo di aver scritto ok quindi adesso scusate rifaccio run allora il nome fermati ricomincia la capa allora nome 1 1 2 3 4 5 e adesso cosa mi stamperà mi stamperà ovviamente questi 5 elementi ma al contrario perché man mano li ho inseriti non li ho aggiunti in fondo li ho aggiunti all'inizio quindi il primo che avevo inserito ad ogni nuovo elemento si è spostato si è fatto più in là di una posizione quindi prima inserisco l'1 e va lì da solo poi quando inserisco il 2 anziché metterlo in fondo lo metto all'inizio lo metto in posizione 0 il 2 e l'1 andrà in posizione 2 poi inserisco il 3 e il 3 viene messo in una posizione 0 perché 0? perché lo dico io 0 l'ho chiesto io qua 0 e quindi il 3 andrà in posizione 0 chi c'era in posizione 0 prima il 2 e allora lo metto in posizione 1 chi c'era in posizione 1 prima l'1 e allora lo metto in posizione 2 e vado avanti così se uno volesse fare il fine l'operazione di insert è un tantino più lenta dell'operazione di append perché devo gestire questi spostamenti di elementi ma è una differenza impercettibile ok creiamo una lista aggiungiamo gli elementi in coda in mezzo o all'inizio e possiamo trovare cercare gli elementi ad esempio l'operatore in che già avevamo sulle string ricordate però qua funziona in modo diverso sulle string l'operatore in andava a vedere se una sottostring era più corta era contenuta dentro una stringa più lunga quindi di fatto faceva un confronto su una serie di elementi consecutivi cioè di caratteri consecutivi stringhe qua sulle liste no questa lista va a controllare se uno specifico elemento c'è o non c'è uno solo uno solo elemento che può essere a sua volta un numero può essere a sua volta una stringa quello che è quindi if Cindy is in France va a vedere se la lista France che contiene tanti elementi uno di questi elementi è uguale uguale a Cindy Cindy o la variabile che è e mi dice sì o no c'è non c'è trovato non trovato trovato ovviamente vuol dire che ho trovato identico identicamente lo stesso identico valore non maiuscole e minuscole cambiate eccetera quindi nel nostro esempio se io scrivessi se 2 in nomi e poi se scrivo se 7 è in nomi mi dovrebbe dire che la prima volta c'è e la seconda volta non c'è se inserisco ovviamente sempre gli stessi valori quindi 1 2 3 4 5 in questo caso mi dice che sempre falso quindi 2 e 7 entrambi non sono in nomi mi sono accorto mi sono accorto mentre lo scrivevo perché il 2 non l'ha trovato perché ci ho messo uno spazio di troppo anziché scrive 2 invio mi è scappato il dito sono fatti 2 spazio invio lo spazio fa parte della stringa e quindi il confronto di uguaglianza fallisce allora proviamo a scrivere giusto allora in questo caso il 2 lo trova quindi questa prende riga 13 prende 2 in nomi da questo valore true l'apprendizio che è 14 dal valore falso questo vale per un singolo elemento se c'è o non c'è se voglio sapere dov'è ho la funzione index ci avevamo già anche sulle stringhe poi usavamo sempre find perché era più comodo la funzione index mi dice dov'è nel caso nel caso in cui ci sia mi dice mi dà il valore dell'indice o meglio del primo indice in cui è stato trovato l'elemento specificato se l'indice non viene trovato si genera un errore un value error quindi già l'indice delle stringhe funzionava così poi noi non lo usavamo mai usavamo find che era un pochino più gentile perché se non lo trovava mi restituiva il valore meno uno e quindi mi permetteva di gestire l'errore anziché interrompere il programma qua invece se chiamo index su una lista che non contiene quel valore il programma dà un errore e noi non impareremo a gestire gli errori fino a quasi per l'ultima settimana del corso quindi per ora ci interrompe il programma e non ci permette di andare avanti che è un po' brutto allora in pratica tutte le volte che vogliamo cercare dov'è un valore all'interno di una stringa dobbiamo prima accertarci prima che ci sia e poi trovare dov'è quindi ad esempio nel mio programmino potrei dire dimmi un nome nuovo e poi posso dire c'è o non c'è questo nome quindi if nuovo in nomi se c'è vedo dov'è la posizione nomi.index nuovo e ti dico l'ho trovato in posizione vai via tu mi do di fastidio posizione pos oppure dirò non trovato quindi una volta che ho letto i miei cinque nomi posso interrogare il mio database di nomi e se inserisco un nome esistente mi dovrebbe dire chi l'ha trovato e dirmi anche in che posizione l'ha trovato ecco vedete che la funzione index l'ho messa in un posto alla riga 17 in cui sono sicuro che il nome c'è il nome nuovo c'è e quindi sono sicuro che questo index mi restituisce un valore e non dà errore quindi uno due tre cinque il nome nuovo se è tre mi dirà che il nome tre l'ho trovato in posizione due se invece inserisco degli altri valori e cerco il tre mi dirà che non è stato trovato ok quindi ricercare un elemento uso index solo se so che c'è e per sapere se c'è o no dovrò usare l'in prima preventivamente poi esistono anche altre operazioni distruttive tipo cancellare un elemento così come le aggiungo le posso togliere da una lista in questo caso si chiama pop vabbè al contrario di insert si chiama pop pop fa due cose la prima cosa è eliminare l'elemento quindi di cui ho specificato l'indice quindi qui fa vedere che è un elenco di amici voglio eliminare sindi che è in seconda posizione quindi chiamerò lista nome della lista punto pop argomento 1 questo elimina questo valore e quindi di fatto libera la posizione 1 e accorce la lista spostando indietro tutti gli elementi che erano nelle posizioni successive quindi mentre emily all'inizio era in posizione 2 dopo aver cancellato sindi emily tornerà alla posizione 1 al contrario di insert insert fa spazio e poi ci mette il valore nuovo pop toglie il valore e ricompatta lo spazio quindi tutti gli elementi il cui indice sono maggiore uguale rispetto a quello dell'elemento che sto cancellando saranno decrementati in una posizione quindi immaginate su Python tutor quelle freccioline si spostano un pochino più in là e quindi l'ultimo elemento poi non serve più viene distrutto per l'ultimo contenitore l'altra cosa che fa la funzione pop è che mi restituisce il valore che ho appena cancellato perché mi potrebbe servire io dico cancello il primo valore cancello il terzo valore ma chi ho cancellato torniamo il nostro la nostra lista che avevamo prima io voglio cancellare il secondo elemento posso fare a.pop di 1 e ovviamente la variabile a non ha più quello che prima era il secondo elemento e però il valore che il metodo pop ha restituito io l'avevo preventivamente salvato in una variabile e questa variabile mi riporta il valore che ho appena cancellato quindi questo può essere utile immaginiamo di avere una lista di valori io faccio un ciclo all'interno di questo ciclo ogni volta tolgo il primo elemento e ci faccio qualcosa lo stampo lo lavoro eccetera quindi col pop faccio le due operazioni contemporaneamente estraggo l'elemento e lo salvo da qualche parte il valore ritornato da pop è il valore che non c'è più nella lista ok quindi a queste due azioni mentre index ovviamente non ritorna nessun valore perché non servirebbe poi un'altra operazione qui su un'operazione di base un po' come quando impariamo i numeri impariamo a fare quattro operazioni idem sulle liste un'altra operazione che già conoscevamo sulle stringhe c'è anche sulle liste c'è la concatenazione c'è il più la concatenazione tra due liste crea una nuova lista che contiene gli elementi della prima e gli elementi della seconda vediamolo sul python tutor così capiamo cosa succede a questi elementi immaginiamo di avere due liste che sono questa a e b e calcoliamo una terza lista che sia a più b stiamo costruendo una lista a e b facili da vedere sono due liste c'è una delle quali avrà i suoi valori quando costruisco a più b sto costruendo una terza lista che contiene al suo interno gli stessi nel senso di alias valori che conteneva a seguiti dagli stessi da un alias dei valori che conteneva b le fraccioline cominciano a essere un po' disordinate ma abbiamo fatto avevo una lista da 3 e una lista da 2 la concatenazione mi ha creato una lista da 5 quindi indici da 0,4 i cui primi tre elementi 0,1,2 sono degli alias ai tre elementi di A e gli ultimi due elementi sono degli alias agli elementi di B quindi tra l'altro per assurdo abbiamo trovato un altro modo per fare una copia di una lista se voglio fare una copia di una lista A basterebbe fare così concateno A con una lista vuota e l'operazione di concatenazione mi crea una lista nuova che contiene tutti gli elementi di A seguiti da niente perché non ce ne sono vi avevo detto che c'erano tanti modi di fare una copia di una lista in un'altra vedete qua ho creato la stessa cosa che facevo con la funzione list è un po' più chiaro se faccio list piuttosto che non questa schifessa però per abituarci che ci sono delle operazioni che modificano la lista append modifica la lista insert modifica la lista pop modifica la lista e quindi tutti gli alias che puntano quella lista e altre operazioni che invece creano una nuova lista aperta quadra crea una lista più crea una lista list crea una lista nuova e dobbiamo abituarci a quali operazioni fanno una cosa e quali operazioni fanno l'altra cosa vabbè poi il resto è uguale il disegno si complica un pochino quando ci sono tante frecce infatti esiste anche un operatore che è analogo alla concatenazione ma modifica la lista stessa cioè io ho due modi se ho una lista per raggiungere gli elementi a questa lista il più oppure extend torniamo qua ripuliamo il codice io prima ho scritto c uguale a più b ok commentiamo per un attimo questa riga e proviamo a scrivere a.extend di b l'extend è un metodo di a è un metodo della lista che riceve come parametro un argomento che deve essere un'altra lista e quindi va a modificare la lista a estendendola con gli elementi della lista b qui siamo alla condizione di partenza occhio alle frecce quando clicco su questo elemento mentre quando facevo a più b mi creavo un'altra lista sotto qui mi semplicemente allarga la lista esistente quindi i primi tre elementi non li ho copiati non ho fatto degli alias sono lì non li ho proprio toccati non ci ho fatto nulla ho aggiunto due spazi in più e questi due spazi sono stati inizializzati con degli alias agli elementi di b dimmi viene ripetuto allora la sua domanda è se io faccio una concatenazione tra due liste e queste liste hanno un valore in comune questo viene ripetuto comparirà due volte cioè quando io concateno due liste non va a eliminare eventuali duplicati faremo poi i set che invece fanno questa proprietà qua quindi una lista che noi non l'abbiamo mai fatto è vero negli esempi può tranquillamente contenere più volte lo stesso valore in posizione 1 c'è tizio e in posizione 7 c'è di nuovo tizio va bene non è un problema l'unico problema è quando faccio la ricerca index che ovviamente mi troverà sempre il primo se non uso il secondo parametro di index che mi dice da dove cominciare a lavorare però qui abbiamo una stessa operazione tornando al nostro esempio qua la stessa operazione concettuale cioè ho due liste ne costruisco una che sia la somma la congiunzione la concatenazione delle due comprese gli eventuali duplicati non va a vedere i valori nessuna di queste operazioni che abbiamo visto va a vedere il valore degli elementi lavorano solamente sulle freccioline lavorano sulle liste cioè sui rettangoli gialli non sui valori i valori non sono cambiati in nessuna delle operazioni che abbiamo visto stamattina concettualmente la stessa operazione ho due liste ne creo una che sia la somma delle due ma tecnicamente in un caso sto creando una nuova lista senza modificare le liste di partenza nel secondo caso invece sto modificando le liste di partenza e quindi poverina se la nostra lista A avesse avuto per qualche motivo un alias che faceva riferimento agli stessi elementi Z uguale A allora magari non mi sarei accorto ma sarebbe successo che anche Z a questo punto si prendi due elementi in più ovvio poi quando lo vediamo su tre istruzioni è sempre facile da capire quindi dobbiamo sempre essere molto chiari nella nostra mente questa operazione modifica una lista esistente occhio se ha degli alias modifica anche questi oppure questa operazione crea una nuova lista e quindi gli eventuali alias non vedranno la modifica fatta tra l'altro io ho chiamato questo era la differenza era maggiore perché ho chiamato C uguale A più B ma spesso quando voglio aggiungere qualcosa a una lista rimetto la lista estesa sempre dentro A vogliamo allora lasciamo Z A uguale A più B sto facendo A uguale A più B è molto simile a extend perché gli elementi di A concatenato con B alla fine vanno a finire sempre dentro A quindi mi sembrerebbe di dire che la riga 7 e la riga 8 facciano la stessa cosa e dal punto di vista di A fanno la stessa cosa dal punto di vista Z no Z è un alias di A quindi tutte le modifiche che faccio ai valori di A le vedrà anche Z ma nei modifichi che faccio alla variabile A rompono l'alias perché riassegno A a un valore nuovo vediamolo se non ci crediamo o A più che altro vediamolo per capirlo meglio A e Z sono due alias sulla stessa lista poi B mi dà A dei valori dentro A uguale A più B A più B ho già visto che la fa prende A prende B li concatena e crea una nuova lista che contiene 5 elementi vedete questa nuova lista la assegno la variabile A quindi da qualche parte comparirà nel disegno una lista da 5 e la frecciolina di A punterà alla nuova lista da 5 è quello che ho scritto non è che può parlare diversamente di tutto questo Z non se ne accorge e quindi la nuova lista da 5 è finita qua sotto questa frecciolina qua che arriva dalla nuova lista vediamo proprio che parte da A e quindi se io uso la variabile A alla fine non mi accorgo la differenza tra quelle due istruzioni 7 oppure 8 A prima puntava a una lista da 3 adesso puntano a una lista da 5 che contiene proprio quei valori lì ma Z in questo caso poiché era un alias di A e io non ho modificato il valore della lista a cui puntava A ma ho creato una nuova lista e l'ho riassegnata alle variabili A Z continua a puntare alla stessa lista a cui prima puntava A e adesso non punta più purtroppo sono finezze ma sono finezze importanti perché dobbiamo capire dovevano finire i nostri valori quindi molte volte troviamo duplicati dei metodi di funzione ma perché sia questo che quello perché uno va a modificare la lista e l'altro invece va a creare una lista nuova dimmi quindi tu se ho capito bene vuoi dire io ho una lista che contiene che so quattro elementi poi ho un'altra lista da tre e voglio inserire quei tre a metà della lista cioè tipo 0,1 poi gli altri tre nuovi e poi gli elementi che prima ne sono due o tre lo posso fare concatenando le tre liste quindi posso fare A uguale devo fare una slice adesso facciamo una slice la fetta dei primi due elementi concatenata con la lista nuova concatenata con la fetta degli altri due come facevo con le stringhe l'extended non è capace di estendere in mezzo e attenzione anche a un altro dettaglio che abbiamo visto due metodi per aggiungere dei valori a una lista in coda in fondo append append e extend che differenza c'è? beh la differenza è che append aggiunge un valore quindi crea una casella e ci mette dentro quel valore quindi l'argomento di append non è una lista è un valore un elemento extend invece vuole una lista e appende e di fatto è come se appendesse uno a uno tutti i valori di quella lista ok lo vediamo se proviamo a fare operazioni inverse vediamo che succede noi abbiamo A abbiamo B ok possiamo fare così se io posso fare A punto extend di aggiungere il valore 6 alla lista A mi dice che non va bene perché extend si aspetta di ricevere una lista e lo scrive in modo un po' strano l'oggetto int non è iterabile cioè l'argomento di questo è un intero e quindi non è un contenitore qualcosa su cui posso iterare per restare gli elementi se voglio davvero aggiungere 6 con la funzione extend devo crearmi una piccola lista che contiene solo il 6 allora lei è contenta ok se invece faccio append l'abbiamo già visto posso appendere invece un singolo valore 8 e adesso avrà anche l'8 e cosa capita se invece faccio append di una lista allora extend di una lista l'abbiamo visto prende gli elementi della lista e li appende uno a uno se c'è uno solo va bene appende uno se proviamo a fare extend di un valore che non è una lista mi dà errore se facciamo append di un valore semplice lo aggiunge il quarto caso è provare a fare append di una lista che non mi ha dato l'errore ma ha aggiunto un nuovo elemento alla lista e questo elemento a sua volta è una lista quindi ha creato una lista che al suo interno uno degli elementi a sua volta è una lista di un elemento solo per carità dopo questa mazzata vi lascio l'intervallo ci rivediamo alle 1.20 di un'intervallo di un'intervallo di un'intervallo